Dopo il Monte Pulciano, la bruzza una seconda bacca rossa. È stato infatti inserito ufficialmente nel registro nazionale della vite dal Ministero dell'Agricoltura il vitigno autoctono nero antico di Gesso Palena. Sono vini freschi perché hanno acidità molto alta, acidità malica molto alta, molto saline, perché comunque le vendemmie sono tardive. Basti pensare che una base sfumante nella zona del Necchietino viene raccolta dal 15 al 30 di agosto, il nero antico viene raccolto dal 15 al 30 di ottobre, quindi ha due mesi di maturazione in più rispetto a un sfumante convenzionale. Questo riconoscimento si traduce anche in atti concreti? Sì, adesso stiamo iniziando un percorso, speriamo di trovare delle quote per impiantare questi vigneti in alta quota, stiamo coinvolgendo l'agricoltore del territorio e vogliamo lasciare il vitigno nel settore di territorio d'origine, dove può esprimere al massimo le sue potenzialità. Nonostante non sia stata un'ottima annata, ha sottolineato ancora Camillo Zulli, sono stati prodotti circa 15 tollitri di vino, che saranno messi in commercio in bottiglie numerate, non appena sarà formalizzata l'iscrizione nel registro regionale. Un importante riconoscimento frutto di un lavoro di squadra? Sì, assolutamente sì, un lavoro di squadra che è stato duro, ma alla fine ha dato i risultati sperati. E se il progetto ha avuto un finale positivo è stato proprio perché siamo riusciti a mettere insieme il pubblico e il privato, quindi da una parte il Comune di Gestopalena e la Regione Abruzzo, insieme all'Università di Perugia guidata da Alberto Pagliotti, all'Università di Teramo con la Facoltà di Pio Scienze del Professor Deinese, dall'altro i viticoltori e la Cantina Orsogna, che è stato sponsor tecnico ed economico del progetto. Attraverso questo vitigno, aggiunto infine il consigliere regionale Montepara, sarà valorizzato un intero territorio. Sì, questa è la grande, penso, la grande novità, se possiamo chiamarla così. Non è vero che l'interno è una landa desertica dove non si può fare economia, dove non si può fare produttore. No, assolutamente. All'interno c'è una grande biodiversità che deve essere utilizzata, deve essere riscoperta e deve essere valorizzata. Quindi biodiversità di prodotti agricoli, di prodotti che possono veramente portare ricchezza economica e sociale a quei territori.